Decine di persone sono rimaste uccise in un attentato contro una moschea in Nigeria, a compiere la strage due kamikaze nella moschea di Maiduguri nel nord-est del paese. I fedeli erano riuniti per la preghiera della sera. Almeno 42 persone hanno perso la vita secondo una fonte locale. Si sospetta l'organizzazione islamista Boko Haram che nelle ultime settimane ha colpito più volte Maiduguri, il 20 settembre uccidendo oltre 100 persone.